BTM 2024, Fiera di Levante di Bari, siamo nel padiglione di Fonditalia e qui con me Francesco Barzullo, l'amministratore di Unico di CMT. Benvenuto Francesco, grazie. Francesco, la vostra è un'azienda che si occupa di produzione componenti meccanici di precisione e operate un po' in tutto il mondo. Quanto è importante la formazione per i vostri dipendenti? La formazione è indispensabile sia dal punto di vista tecnico per quanto riguarda l'interfaccia dell'uomo e della macchina, sia per quanto riguarda la conoscenza di alcune skill particolari come per esempio le lingue, essendo un'azienda molto esposta nei confronti del mercato estero. Quindi gran parte della vostra produzione è rivolta al mercato internazionale? Circa l'80% del nostro fatturato è all'estero, parliamo di paesi come il Brasile, il Canada, la Svezia, la Polonia, l'Unica Cieca, l'India. Abbiamo colto un'opportunità perché i nostri clienti, alcuni dei quali italiani, hanno dei plant in giro per il mondo e noi serviamo direttamente, siamo omologati worldwide e quindi serviamo direttamente i loro plant e interfacciandoci continuamente sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista amministrativo e commerciale con i loro referenti sul posto. Ecco, in un mercato sempre più globale e competitivo, soprattutto per il settore dell'automotive, nel quale voi principalmente vi muovete, quanto è importante avere a fianco una struttura come Fonditalia che permette di poter programmare la formazione con netto anticipo e secondo i tempi dell'azienda e non i tempi della formazione. Abbiamo visto in Fonditalia un'opportunità che abbiamo colto a volo e approfittando anche di questa flessibilità della formazione, sia dal punto di vista dell'organizzazione per il tempo e del posto di formazione, sia nella gestione durante la formazione delle lezioni stesse, perché noi produciamo su tre turni, quindi è un po' complicato cercare di organizzare, rendere disponibile la manodopera per la formazione. Quindi in parte l'abbiamo fatta a un giorno, quindi mentre si lavora e in parte, questo soprattutto per il settore amministrativo, abbiamo cercato di raccogliere tutte le funzioni dell'azienda in un unico momento e fornire loro la formazione necessaria per poter svolgere il loro lavoro. Quindi Fonditalia possiamo definire uno strumento flessibile e adattabile alle esigenze dell'azienda? Assolutamente sì e lo provo anche disponibile, quindi comprensivo, vicino alle esigenze dell'azienda. Quindi assolutamente consigliato.